Con Claudia Carzeri, neoconsigliere regionale alla 116esima edizione della Fiera di Pozzolengo, una fiera storica, antica, con diverse tradizioni enogastronomiche, che quest'anno in particolare vuole puntare ai giovani. Sì, piacevolmente una scoperta, anche se Pozzolengo lo conoscevo già, sapevo delle immense tradizioni, delle tante peculiarità che Pozzolengo ha, anche dal punto di vista turistico, storico, culturale, enogastronomico. Questa fiera è il connubio di tante realtà che si sono unite, le scuole hanno dato dimostrazione di essere presenti e di dare valore ulteriore a questa fiera. Sì, la valorizzazione è sempre importante, anche se Pozzolengo vanta una storia turistica importante, va comunque tenuta in considerazione e valorizzata sempre di più, perché la nostra terra ha bisogno di tradizione, questa tradizione la dobbiamo trasportare dal punto di vista turistico. La provincia di Brescia ha una storia, ovvio che noi dobbiamo basarci principalmente sulle nostre radici, sulla nostra storia e da qui farla diventare un veicolo, un volano di tradizioni, di eventi e di rapporti anche connessi tra le varie realtà, perché noi abbiamo tante realtà, dalle valli ai laghi, alla città che ha una centralità importante, vanno sicuramente rese più connesse queste realtà, che dialoghino insieme affinché si possa portare un turismo localizzato sulla provincia, e non solo su alcune parti della provincia.